Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, eravate un po' preoccupati, siamo leggermente in ritardo come si vede dal nostro orologio, ma stavamo predisponendo il collegamento col primo ospite, ospite molto importante, un collegamento online per cui con tutte le difficoltà del caso che ben conoscete, perché anche testate ben più blasonate di quella da cui vi parliamo hanno dimostrato che la connessione tecnologica ogni tanto qualche problemino lo dà. Ma siamo qua per parlare della nostra giornata prima di introdurre l'ospite, oggi venerdì 22 gennaio, vogliamo ringraziare come facciamo ogni tanto, ma come dovremmo fare sempre Gulliver per l'arredamento della nostra casa Rossini, contatti per parlare anche con il primo ospite che lo annuncio già, così magari vi potete predisporre, sono 351 708 9977 e casarossini, chiocciolarossinitv.it, avremo infatti come primo ospite Mirko Carloni, vicepresidente della Regione Marche e assessore con 22 deleghe, dopo parleremo anche di questo con lui, oggi comunque 22 gennaio mancano 343 giorni alla fine dell'anno e secondo il nostro librone personologi è il giorno del vortice. Non è nessuna giornata speciale oggi, però siamo andati a sbirciare domani, secondo alcune fonti, è la giornata mondiale delle torte, alcuni dicono che era il 17 gennaio, altri invece parlano di domani, questa è una torta sorpresa, ce n'è un'altra bellissima, ecco questa è un peccato mangiarla. San Vincenzo di Saragozza invece è il santo diacono e martire, venerato come santo dalla chiesa cattolica e dalla chiesa anglicana, qui lo vediamo con una pietra al collo, perché poi quella è stata uno dei suoi miracoli, la pietra ha galleggiato, ma andatevele a cercare queste cose che io vi accenno solo perché sono sempre tutte molto interessanti. Per esempio nel 1506 arriva a Roma il primo contingente di guardie svizzere composto da 150 uomini, si tratta dell'unico corpo di guardie svizzere ancora operativo ed è il più antico corpo permanente al mondo a essere ancora in servizio da oltre 5 secoli senza interruzioni, sapete che le guardie svizzere sono le guardie personali del Papa. Nel 1911 inaugurazione dello stadio del Genoa in occasione della partita tra Genoa e Inter, lo stadio fu ufficialmente inaugurato col nome di Campo di Via del Piano, poi dal 1933 è stato denominato stadio Luigi Ferraris, talvolta chiamato anche Marassi dal quartiere genovese dove si trova ubicato. Risulta essere il più antico stadio d'Italia tra quelli tuttora in uso, ha una capienza di 37 mila posti, ci sono state oltre che naturalmente le partite anche molti concerti, molti spettacoli. Nel 99 si è esibito anche uno dei miei miti, Bruce Springsteen, inutile dire che io c'ero. Nel 1983 il tennista svedese Borg chiude la sua carriera dopo aver vinto consecutivamente 5 tornei di Wimbledon. Tra il 74 e l'81 ha vinto 11 titoli del Grand Slam, di cui 6 al Roland Garros e nei 5 consecutivi a Wimbledon di cui abbiamo appena parlato. Molti ricordano ancora il suo tormentato matrimonio con Loredana Bertè dall'89 al 92, iniziato con un tentativo di suicidio, finito con un altro tentativo di suicidio. Da segnalare anche il film, per chi è appassionato e vuole approfondire la conoscenza di Borg, il film Borg McEnroe del 2017, diretto da Janus Metz, un film che merita, io l'ho visto, effettivamente racconta cose particolarmente interessanti. Nel 1984 viene presentato il primo computer Apple Macintosh con uno spot durante il diciottesimo Super Bowl, la finale della stagione 1983 giocata a Tampa Stadium di Tampa in Florida, tra i Washington Red Kings e i Los Angeles Raiders. L'ha vinta i Raiders che erano anche sfavoriti e invece hanno vinto con il punteggio di 38 a 9. Questa pubblicità è diventata una delle pubblicità più famose del mondo, del resto la regia era di Ridley Scott, è andata in onda solo una volta, riprendeva i temi del film e del libro 1984 di Orwell, per dire che con il computer Macintosh si sarebbe interrotto questo strapotere del grande fratello. Poi in realtà forse non è andata proprio così. Comunque, nel 2018 George Weah giura come presidente della Liberia, succedendo ad Ellen Johnson Sirlef. L'ex calciatore liberiano di ruolo attaccante nel 99 fu scelto dalla Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio come calciatore africano del secolo. Nel 1995 vinse il pallone d'oro, il FIFA World Player e il premio di calciatore africano dell'anno, riconoscimento che aveva già ricevuto nell'89. È l'unico giocatore africano a essersi aggiudicato pallone d'oro e FIFA World Player pur non avendo vinto nessuna competizione UEFA. Si ritirò dall'attività agonistica nel 2002 a 36 anni e appunto poi nel 2018, e dal 2018 lo è ancora, è diventato presidente della Liberia. La frase del giorno con la quale concludiamo questa parte introduttiva, l'entusiasmo rinvigorisce ma se va nella direzione sbagliata, è micidiale. Per cui manteniamo il nostro entusiasmo ma manteniamolo anche nella direzione giusta. E adesso tecnologia permettendo ci colleghiamo con la sede della Regione Marche ad Ancona e con il vicepresidente della Regione Marche Mirko Carloni, vicepresidente nonché assessore appunto dicevo con 22 deleghe. Buongiorno assessore, buongiorno vicepresidente. Grazie della vostra attenzione, mi fa molto piacere essere qua con voi questa mattina. Sarebbe stato bello averla in studio ma sappiamo che gli impegni istituzionali, come si dice, sono particolarmente pressanti in questo periodo per cui è evidente che dovremo rinviare a un'altra occasione quando ci sarà la possibilità di poter fare due chiacchiere di persona. La prima domanda in realtà rispetto a tutto quello che mi ero preparato mi arriva quasi obbligatoria e questo tentativo di mossa sorpresa del presidente Acquaroli sul tentativo di far tornare la Regione Marche in giallo. Allora, la situazione è questa. Abbiamo cercato in tutti i modi con una grande operazione di screening e con un lavoro molto importante, soprattutto anche su Pesaro, di tenere il più possibile la curva dei contagi bassa e questo lavoro oggi potrebbe darci la possibilità effettivamente di tornare in zona gialla dalla prossima settimana. L'ufficialità di questa valutazione, che purtroppo, come sapete, è una valutazione che fa da sola il governo e soprattutto il Ministero della Salute in adesione all'idea che si è fatta il Comitato Tecnico Scientifico, dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Quindi nella giornata di oggi dovremmo avere qual è l'indice su cui le marche sono state misurate durante questo periodo. Ovviamente concorrono a creare questo indice non soltanto la capacità di contagio, quindi quante persone rischiano il contagio, se una può contagiarne più di una e quindi se si supera l'1% appunto si rischia di tornare in zona arancione o addirittura l'1,25% in zona rossa. Ma concorrono nella valutazione anche gli ospedali, posti letto, l'associazione dei focolai. Quindi noi crediamo che ci sarebbero tutte le condizioni, visto che dovremmo essere rimasti sotto l'1 per tornare gialli. E devo dire che abbiamo veramente lavorato tanto affinché si potesse tornare gialli, così come si potesse tornare a scuola in presenza almeno per il 50% e 50% in dad. È una situazione molto difficile da gestire ma ce la stiamo mettendo tutta perché appunto la prevenzione che abbiamo fatto con lo screening e anche devo dire il risultato dei vaccini che ha un indice che è il più alto d'Italia, l'89,7% era l'altro ieri. Quindi stiamo cercando di dare il supporto alle politiche sanitarie e di sanità pubblica che il governo mette in campo. L'assessore Carloni ha un percorso lungo e ha da poco compiuto 40 anni ma è stato il primo consigliere comunale più giovane, consigliere comunale di Fano quando ne aveva appena compiuti 18, ha fatto due mandati a Fano, ha comunque due mandati in regione, questo è appunto al secondo mandato in regione. di conseguenza ha un lungo percorso di esperienza politica. Mi viene una domanda, Assessore, se l'aspettava che fosse così complicato questo ruolo in regione oppure l'ha trovato più complesso di quello che poteva essere anche nelle peggiori e più fosche aspettative? Questa domanda, io devo dire che non mi aspettavo una quantità di voti e di consenso come quello che ho ricevuto che veramente è stato commovente, c'è stata veramente tanta gente che mi ha dato il consenso a me, alla Lega e a questa nuova amministrazione, al Presidente Acquaroli, quindi devo dire che c'è stata un furor di popolo, direi che è il caso di dire e questo ci riempie di responsabilità. Come lei ha detto, io ho cominciato presto, nel senso che a 18 anni sono stato eletto consigliere comunale, quindi è stata un'esperienza iniziata prematuramente dal liceo, ero già amministratore pubblico, ho fatto il consigliere, l'assessore, il vice sindaco di Farno e poi ho avuto anche l'esperienza importante del Senato che mi ha formato e poi sono arrivato in regione a 28 anni. Certo, devo dire la verità, la differenza tra fare il consigliere dell'opposizione e l'assessore è davvero tanta, primo perché sono due amministrazioni diverse, quindi una è il governo e l'altra è l'assemblea legislativa, quindi sono due organi completamente diversi, due amministrazioni, due bilanci, due parrocchie completamente diverse e devo dire che nell'esecutivo che è la Giunta si sente molto di più la responsabilità, si sente davvero tanto la pressione anche delle istanze che vengono dai cittadini, dai portatori di interesse, dalle associazioni, dai comuni, quindi l'interfaccia con il governo è qualcosa di molto importante per cui bisogna stare attenti a tutta l'attività regolatoria, è un'esperienza molto impegnativa, devo dire che probabilmente è una grande opportunità di imparare tante cose e anche di mettersi in gioco per provare a cambiare le cose che non funzionavano, migliorare e lasciare un segno. Lo accennavo nell'introduzione, il suo assessorato ha ben 22 deleghe, ne leggo solo alcune perché se no andrebbe via tutta la parte che abbiamo a disposizione, commercio, fiere mercati, green economy, alimentazione, digitalizzazione, sviluppo economico, marchigiani del mondo e poi tutto il comparto dell'agricoltura. Mi sembra che su questo lei si stia spendendo in maniera particolare sul discorso dell'agricoltura, c'è anche questa iniziativa che Rossini TV ha testimoniato con uno speciale del 7 gennaio, se non ricordo male, al Castello di Frontone nel quale sono state fatte delle mosse importanti per il settore dell'agricoltura. Allora, l'agricoltura è senz'altro la delega più importante dal punto di vista della disciplina perché mentre le altre sono di diretta connessione con la nostra funzione e con l'amministrazione regionale, l'agricoltura è quella che invece dipende tantissimo dall'Europa. L'Europa trasmette i soldi per lo sviluppo agricolo attraverso le varie regioni d'Europa e quindi è un passaggio diretto non mediato dal governo nazionale e lì c'è un'attività intanto di verifica e monitoraggio di auditoria continua sulla spesa e quindi è una delle poche attività come lei avrà visto anche in passato dove escono continuamente classifiche su chi è stato bravo a spendere, quanto ha speso, sui tempi di pagamento, quindi c'è più di ogni altra attività della regione Marche un monitoraggio che ti costringe ad una competizione anche con le altre regioni. In questa fase in modo particolare, nonostante le difficoltà, devo dire, nonostante il momento che stiamo vivendo, il fatto che una persona sola abbia dall'agricoltura all'artigianato passando per il commercio, industria, la cooperazione, queste deleghe che sono quelle di sviluppo economico, di progresso economico insieme danno la possibilità di vederle tutte sullo stesso piano e soprattutto di farle interagire tra loro cercando di migliorare e di non lavorare a compartimenti stagni. Avere un'unica visione che è quella di sviluppare le filiere produttive, cosa che non c'è nella nostra regione, abbiamo dei campioni, dei leader che fanno prodotti esportati in tutto il mondo ma sotto non ci sono le filiere produttive. Il paradosso è che i conferimenti li fanno da altre regioni, il latte, i maiali, la zootecnia, tutto quello che ieri per esempio ho incontrato un allevatore di razza marchigiana e appunto mi dicevano che la maggior parte del nostro prodotto è di qualità eccellente, la razza marchigiana è probabilmente una delle migliori in assoluto come specie, però purtroppo si è persa la filiera produttiva della zootecnia e le stalle piano piano vengono abbandonate, così come se pensiamo a Carpegna nella nostra provincia abbiamo un prosciutto DOP che è una grande opportunità per noi, però quel consorzio che dovrebbe produrre a determinati standard e lo fa vendendoli a prezzi importanti in giro per il mondo e soprattutto in America, il prosciutto di Carpegna, non c'è più sotto quella tipo di produzione un allevamento di suini che permetta il conferimento e quindi ci sono delle distorsioni nel nostro sistema agricolo, la stessa cosa vale per il latte, abbiamo uno dei più importanti produttori trasformatori di latte che è la Copperlat che fa prodotti venduti ovunque, ma il conferimento non avviene più da stalle marchigiane, quindi è così uguale per il grano per esempio, noi abbiamo delle eccellenze diffuse come tipico del nostro sistema economico, micro imprese che fanno magari biologico, qualcosa davvero belle nella biodiversità che è un valore fortissimo di questa regione, però questo non è stato mai messo a sistema, non so se riesco a spiegarmi, per diventare competitivi su un mercato dove invece bisogna fare massa critica ed essere più forti e avere numeri significativi, perché il piccolo a volte non riesce ad essere bello sui mercati dove invece i numeri contano e la capacità anche di conferimento e di produzione è importante, quindi dobbiamo eliminare questa differenza tra la grande capacità di trasformazione e commercializzazione e la produzione sottostante, però per farlo abbiamo l'opportunità di avere un PSR importantissimo di cui si sta discutendo l'altra sera fino a tardanotte con tutti gli assessori regionali e devo dire che è brutto definire una lotta, però effettivamente è una lotta perché ogni regione in questo momento propone dei criteri con cui distribuire questo denaro e noi ovviamente abbiamo due grandi problemi, il primo il pagatore, sapete che la regione Marche era l'ultima per i pagamenti del PSR e quindi molti nostri agricoltori aspettavano addirittura dal 2017, ancora oggi aspettano delle liquidazioni, questo per un ritardo storico che ha l'organismo pagatore a cui noi siamo agganciati che è AGEA e quindi siamo riusciti a mettere per la prima volta nel comitato tecnico di controllo di AGEA un funzionario della regione Marche, primo obiettivo che era fondamentale per noi, secondo obiettivo è la distribuzione del nuovo PSR, fate conto che in base all'adozione di alcuni criteri può cambiare per noi, mi diceva il mio dirigente, dai 150 ai 200 milioni di Euro di differenza, quindi potremmo avere 500 milioni per i prossimi 7 anni oppure 700, quindi è una grande differenza, capite? La interrompo, mi pare di capire che sostanzialmente questa nuova politica legata anche a questi soldi che dovrebbero arrivare, sta anche molto nel intercettare, nel fare uno screening, nel monitorare continuamente e nell'intercettare quelle che possono essere delle risorse cercando di ottimizzarle al massimo da una parte e dall'altra nel seguire poi la filiera fino in fondo per fare in modo che gli utilizzatori finali siano in grado di usarla, per esempio ci sono questi nuovi bandi per il 2021, per l'economia reale, l'entroterra, l'albergo diffuso altri temi che la riguardano, come sta andando questo screening dei bandi e c'è la possibilità di far arrivare sul nostro territorio dei fondi? Allora, questo dell'agricoltura appunto si collega ad un altro fatto che vale anche per gli artigiani, per l'industria, dove è necessario trovare dei sistemi uniformi, diciamo così, li abbiamo chiamati ecosistemi per essere chiari, anche se la parola non è esatta, dove magari possono nascere anziché quel fenomeno di contoterzismo che abbiamo visto nel nostro sistema economico che talvolta poi ha lasciato in braghe di tela tanti microimprenditori che lavoravano per qualcuno che gli faceva fare una parte della produzione esternalizzandola, dobbiamo rivalorizzare quel sistema cercando di trasformare un'opportunità a quello che era un problema e puntando sulla qualità e non sul prezzo, per fare questo dobbiamo trovare per ogni ecosistema compatibile un produttore importante, un grande industriale, il quale si mette alla testa di una filiera e dice io la trascino verso l'alto, se devo andare a fare internazionalizzazione, la faccio io, ma i benefici li faccio ricadere su tutti quanti quelli che stanno sotto, creando formazione, creando anche raccolta di massa critica per partecipare a bandi. Noi abbiamo, come mi parla del capitolo, lei diceva, c'è una grande opportunità perché nel 21 riparte tutta la programmazione europea, quindi 21-27, ci sarà tutto il finanziamento straordinario del piano che si chiama POR, che poi si declina in FES, FEAM e nell'FSE e quindi dovremo avere una grande opportunità di riprogrammazione di questi bandi. L'idea che noi ci siamo fatti e che abbiamo trasmesso nel bilancio è di voler puntare tantissimo sull'innovazione digitale, sulla tecnologia, ma soprattutto sulle start up e da un lato più tecnologico, fare un'operazione sulla specializzazione intelligente, cioè sostenere quelle aziende cercando di individuare quali sono i temi più importanti per il nostro tessuto economico, su cui noi possiamo intervenire con denaro pubblico, non per fare una divisione a pioggia di contributi che talvolta non elevano l'azienda, ma costringerli a una specializzazione intelligente, cioè al trasferimento tecnologico per innovare il processo produttivo o il prodotto stesso. E ci sono veramente, stanno arrivando tantissime idee straordinarie, vi dico l'ultima che è una notizia penso, ho incontrato la Confindustria Moda, il quale ci chiede di fare inserire nella specializzazione intelligente un tema a cui non avrei mai pensato io, che è la space economy e noi abbiamo una serie di, per varie ragioni che spiegheremo quando la metteremo a terra, varie condizioni per essere protagonisti della prossima economia che si occuperà di spazio, ma di spazio inteso come vestiti, come abiti, come dress, quindi è davvero molto interessante, poi ci sono altre innovazioni per esempio sul carbonio, su cui stiamo lavorando per diventare un riferimento vero nel tema del carbonio, oppure nella cantieristica abbiamo seguito diverse specializzazioni e ricerche, ecco questi brevetti che poi diventano specializzazioni generano un sistema imprenditoriale che può rimanere anche di dimensioni piccole come dimensioni, come è il nostro tessuto, perché non si trasforma dall'oggi al domani, però quando si eleva dal punto di vista della tecnologia e dell'innovazione è sicuramente molto più competitivo e non deve concorrere sui mercati col prezzo, perché ovviamente quella è una competizione che noi non possiamo vincere sui mercati, inoltre per il commercio e l'artigianato una cosa su cui noi punteremo molto sarà la rivitalizzazione dei centri dei borghi e delle aree interne, intese come centri storici, ma anche ovviamente delle città e avevamo pensato a due misure, una per la riapertura di attività artigianali o commerciali, l'altra che è legata all'albergo diffuso, cioè la possibilità di utilizzare immobili anche belli in centro storico per creare l'albergo diffuso, che è un fenomeno che sta funzionando molto anche in Francia e devo dire molto in Toscana. Bene, allora io direi che ce l'abbiamo in qualche modo fatta, le abbiamo rubato già abbastanza tempo e soprattutto siamo riusciti a portare in porto questo collegamento, la promessa però che le strappiamo è di venire, di trovare modo di venire in studio, perché vorremmo prima di tutto conoscerla meglio e questo si riesce a fare solo di persona e farla conoscere poi, non tanto per noi quanto per i nostri telespettatori, farla conoscere meglio i telespettatori e poi in studio almeno quando si comincia, si comincia e i tempi sono quelli, non ci sono tempistiche tecniche diverse. Mi faceva piacere molto essere lì con voi, però purtroppo le mie giornate sono da murato vivo qua dentro e quindi faccio fatica a spostarmi proprio fino alla sera tardi, invece a Pesano vengo quasi tutti i weekend perché mi fa molto piacere stare con la famiglia Pesano, mia figlia è un amante di Rossini e della musica e quindi siamo molto molto spesso a Pesano, però molto spesso in incognito con la mascherina cerchiamo di non disturbare, però vengo a trovarvi veramente con grande piacere appena è possibile. Bene, la prendiamo come promessa e la facciamo e la giriamo ai nostri telespettatori e intanto la ringraziamo, buon lavoro al Vice Presidente e Assessore Mirko Carloni, Regione Marche, come avete sentito, tanto lavoro e tanto impegno. Grazie ancora. Allora, la tecnologia ci impedisce anche i convenevoli perché poi alla fine si saluta, si ringrazia, poi si sparisce dal video eccetera, però va bene così, l'impegno ce l'abbiamo messo e sono sicuro che comunque tutto quello che l'assessore Carloni aveva da raccontare è arrivato ai nostri telespettatori, a questo punto ci prendiamo la classica pausa per andare in pubblicità, non avevamo prima lanciato il nostro sondaggio, lo lancio adesso e la domanda era musica, analogico o digitale? Cioè preferite il vinile e le cassette, le cassette magari sarà un po' difficile, però i dischi sono tornati di moda o preferite comunque e abitualmente utilizzate la musica digitale che parte dal CD ma che arriva alle playlist varie dei vari servizi online. Questo è il sondaggio di oggi, poi alla fine daremo i risultati nel momento in cui lanceremo anche la nostra dedica, per adesso ci prendiamo il nostro piccolo spazio pubblicitario per introdurre poi il prossimo ospite che è lo scrittore e regista Gianfranco Angelucci. Restate con noi, mi raccomando, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, siamo ancora in diretta per Casa Rossini, questa nostra trasmissione che va in onda è lunedì, mercoledì e venerdì alle 10 e poi con le repliche pomeridiane delle 16, delle 22 e delle 15 e 30 del giorno dopo. Il secondo ospite della giornata, lo scrittore e regista ma non solo, scopriremo poi che queste sono solo due e ci servivano per metterle nel sottotitolo ma sono tante altre le qualifiche, Gianfranco Angelucci. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, buona mattinata a tutti. Benvenuto e benvenuto a raccontarci un po' di cose e in questo momento Gianfranco Angelucci è un po' l'uomo del momento diciamo soprattutto in questo territorio, ne parliamo fra un attimo, volevo solo inquadrare un po' come ci divertiamo ogni tanto a fare, scrittore e regista è nato il 12 aprile, ti interessa sapere cosa dice il nostro librone personologi sui nati il 12 aprile? Allora vediamo, è innanzitutto il giorno della consapevolezza sociale, non so bene cosa voglia dire però comunque questa definizione è quella del giorno. E poi dice il nostro librone che i nati il 12 aprile sembrano avere perennemente le antenne dritte pronte a captare l'umore della società. Bello no? Non è male. Poi va avanti moltissimo ma lo lasciamo stare, lo stesso giorno è nato Francesco Saverio Borrelli ed è nato anche Andy Garcia, l'attore di origine cubana e così. Tra i pregi abbiamo socialmente consapevole, articolato e diplomatico, i difetti abbiamo deciso da un po' di tempo che non li leggiamo più che altro perché non ci prendono. Per cui il librone ci permette di scherzare un po' e di conoscere un po' i nostri ospiti e adesso entriamo veramente nel vivo. Perché ho detto poco fa che in qualche modo in questo momento Gianfranco Angelucci è l'uomo del momento soprattutto in questa zona ma non solo. Perché Gianfranco Angelucci è un grande esperto, nonché comunque amico e collaboratore di Federico Fellini e in questi giorni, come del resto per tutto l'anno scorso, un anno difficile per tutte le varie ricorrenze, Federico Fellini rivive un momento importante perlomeno per quanto riguarda la sua notorietà perché era l'anno scorso 2020 e con un prolungamento, perché ho visto poi questa cosa divertente che ha fatto il comune di Rimini 100 più 1, il centenario della sua nascita. Infatti due giorni fa era la ricorrenza del suo compleanno, ci sono state un'infinità di dirette, di chiacchiere e naturalmente anche riferito al mio libro che è uscito nel 20 appunto per celebrare Federico che si chiama Glossario Felliniano, fatto con un pochino di malizia perché sapendo che si sarebbero dette tante cose su Federico nell'anno del centenario, che insomma viviamo una sola volta e fra le tante cose inevitabilmente anche tante cose approssimative o sbagliate o delle sciocchezze avevo pensato che poter fornire al pubblico un glossario, cioè un libro di riferimento però simile, affidabile, con cui poter inoltrarsi in quella galassia felliniana della creatività che è estremamente affascinante ma non meno difficile da indagare, potesse essere un servizio sociale come diceva prima l'orosco, una maniera di mettersi insomma al servizio del pubblico al servizio di chiama Fellini ma di chiama in genere l'arte, la cultura, tutto quello che si porta dietro che in Italia è molto importante. Noi ci siamo conosciuti in occasione di uno speciale che ad agosto la nostra emittente Rossini TV ha realizzato in occasione di un evento speciale di quelli paralleli alla mostra del cinema al Pesaro Film Festival che era appunto dedicato a Federico Fellini e con un aggancio ardito a Leopardi tra l'altro perché c'era il discorso della luna ed è stata una serata, una manifestazione molto bella molto partecipata nella quale tra l'altro appunto abbiamo fatto la prima scoperta di questo libro questo libro è uscito al momento giusto diciamo, è un editore attento che adesso io non trovo qui Avaliano, sì Avaliano Esatto, un editore attento che ha visto bene di appunto approfittare del momento giusto per pubblicare questo libro. Come sta andando il libro e soprattutto Lo sta andando bene, lo mostrerò, 50 voci per conoscere il regista, insomma raccontare Federico Fellini il genio italiano del cinema. Io sono molto partecipe di questa avventura e molto fazioso perché la mia vita è stata improntata da Fellini, come tu sai io mi sono laureato a Bologna con una tesi su Fellini quando ancora non esistevano neanche gli insegnamenti di cinema sono stato la prima tesi di cinema in Italia e il docente di storia dell'arte mi aveva consigliato essendosi innamorato di Satiricon che era uscito appunto l'autunno precedente invece di scegliere un pittore minore di dedicarmi a Federico Fellini è un po' provinciale, avevo detto ma Federico Fellini è un regista e lui mi aveva risposto no, è il più grande artista figurativo del Novecento e mi aveva già avviato come uno scambista, come lo scambista delle ferrovie che tira la leva e manda il treno da una parte e dall'altra, mi aveva mandato verso Fellini e quello ha cambiato ovviamente completamente la mia esistenza, non saprei oggi quale sarebbe stata la mia esistenza sono quegli snodi importanti, si rimane poi legati a questi episodi perché chiaramente sono episodi sui quali si sviluppa la vita, questo professore sa di questa cosa ha continuato a seguire, a sapere oppure per lui era una delle tante, dei tanti consigli che l'ha dato? no, 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 era una tesi importante quella perché ripeto non c'era, l'università di Bologna era molto tradizionale una sfida grossa anche da parte sua l'idea di fare, sì, una tesi sul cinema, avevamo dovuto avere come correlatore insomma prendere un complice nella figura di un altro grande docente di Bologna che è Luciano Anceschi, che è docente di estetica questi due professori particolarmente avanti nella visione dell'istruzione, dell'università, delle cose hanno reso possibile questo momento, quindi con Momis, lo chiamavamo Momis Francesco Arcangeli, ma era un genio, anche lui purtroppo morto suicidio come tanti geni era stato felicissimo di questa, anche perché poi la cosa è andata bene al di là di ogni pensabilità insomma io avevo conosciuto col biglietto di presentazione, avevo conosciuto Fellini a Roma all'Hotel Plaza, lui mi aveva accolto come se fossi un fratellino durante la realizzazione della tesi c'è stato questo collegamento? prima che la concludessi, dovevo chiedergli delle cose, quindi ci siamo conosciuti lui mi aveva accolto con dolcezza, mi aveva invitato a pranzo aveva detto resta che ci sono, eravamo all'Hotel Plaza ci sono i tortellini, non sono come da noi, però vedrai che non ti dispiaceranno insomma mi aveva trattato con molta familiarità dicendo poi quando hai finito di scrivere me la porti e tra l'altro è stata premiata anche dal punto di vista diciamo accademico 110 Lode, insomma che comunque è probabilmente un risultato atteso però insomma fa sempre piacere e probabilmente è piaciuto anche a Fellini il premio vero è che essendo piaciuto a Fellini lui mi ha detto se poi ti interessa il cinema vieni, vieni a c'è la città, vieni a me a trovare qualcosa succederà e lì è cominciata questa consuetudine che nel tempo è diventata amicizia nel tempo è diventata collaborazione e alla fine ho persino firmato come sceneggiatore un suo film che ha vinto a Cannes, ha vinto a Mosca Intervista Intervista, sì E sceneggiare, io questa era una domanda che mi ricordo ancora di aver fatto in occasione di quello speciale la domanda era sceneggiare per Fellini o sceneggiare con Fellini? Sceneggiare per Fellini perché io con Federico avevo già ho collaborato da quando l'ho conosciuto ho collaborato addirittura alle sceneggiatura di Roma che avevo 23 anni però quando mi dico che cosa significa lavorare con Fellini io dico che significa portare mattoni perché poi il costruttore è lui non saprai mai dove andranno a finire le tue suggestioni quello che hai scritto io so recuperare nel film dove c'è stata la mia mano ma non perché sia la mia mano ma perché è stato un apporto per lui per mandare a compimento quella fantasia eccezionale che poi trasfigurava ogni tipo di apporto ogni tipo di contributo quindi lavorare con un genio e andare a recuperare così un po' miserabilmente dove sono i tuoi tasselli mi sembra proprio un po' inadatto un po' improprio però è comunque fonte di soddisfazione e soprattutto la parte diciamo bella di tutto questo sta nel rapporto umano che si è poi creato perché mi pare di capire che la cosa è andata abbastanza al di là di quello che poteva essere un rapporto professionale sì, è stato un rapporto di fungibilità addirittura di scambio insomma io credo che lui abbia immediatamente percepito Federico era un veggente era un mago era uno che aveva delle capacità diagnostiche che andavano al di là delle nostre condizioni usuali e quindi metteva a fuoco veramente con molta velocità le persone ecco lui aveva capito che poteva essere un pochino il suo braccio destro insomma la sua ombra nello scrivere siccome era oberato di richieste di sceneggiature di prefazioni, interviste tutto quello che può succedere a un regista di fama mondiale e aveva ovviamente già i suoi collaboratori però nel nostro caso credo anche per una certa affinità regionale perché a Pesaro non siamo romagnoli siamo dei romagnoli sporchi però siamo molto vicini alla Romagna insomma anche etnicamente anche un po' linguisticamente lui probabilmente ha sentito questa sonorità l'ha presa e l'ha utilizzata in quella maniera per me era vivere un'eterna festa perché veramente con Federico 25 anni sono passati in un momento potendo vivere in un osservatorio che non avrei mai neanche potuto immaginare partendo da Pesaro insomma perché l'ufficio di Fellini a Cinecittà era centrale di ogni avvenimento di Roma qualsiasi regista arrivasse dall'America qualsiasi diplomatico, testa coronata, politico, letterato passava da Cinecittà veniva a trovare Fellini che era considerato un po' il papa dell'arte e quindi fosse ho vissuto una vita un pochino artificiale in questo senso mi sono viziato addirittura Rimini invece in questo momento è avviata verso un recupero importante non ha mai dimenticato Fellini però probabilmente negli ultimi anni ha aperto gli occhi forse e abbiamo visto ci sono state delle azioni particolari delle iniziative, delle manifestazioni puntava molto su questo 2020 questo 2020 ovviamente come tutti quelli su cui si è abbattuto cioè tutto il mondo ma in particolare quelli che avevano ricorrenze speciali penso a Raffaello penso all'anniversario del compleanno di Rossini del 29 febbraio dell'anno scorso e tutto il resto ha creato delle difficoltà in questo momento rilancia Rimini con questo P1 che manifestazioni stanno portando avanti? La cosa più importante in assoluto è la creazione di questo museo Fellini lì è stato lungimirante il ministro Franceschini che ha dato una quantità di soldi enormi a Rimini credo 22 milioni di euro qualcosa di simile insomma veramente grande su cui il sindaco Gnassi insomma comunque voglio dire l'amministrazione ha pensato proprio di dare una forma diversa alla città cercare anche di unire il centro fra il Cinema Fulgor la Rocca Malatestiana eccetera di fare un unicum in cui il turista ma anche lo studioso insomma che voglia arrivare a vivere insomma la Rimini Felliniana e Fellini come tutore di Rimini possa trovare una serie di facilities come dico l'americano cioè di infrastrutture che gli permetto di vivere all'interno di questo fenomeno io credo che loro stanno correndo credo che forse per la primavera o per l'estate riescano ad avere almeno la prima parte ecco di questa costruzione sarebbe molto importante perché anche serve a riconciliare le due figure Fellini e Rimini sono stati in contrasto quasi da sempre i riminesi non hanno mai perdonato a Fellini la diaspora di essere partito da Rimini e di averla in qualche modo tradita cosa che non è vero perché poi Federico assolutamente Amarcord si è spostato ma la resa internazionale assolutamente internazionale immortale se tu pensi che il Grand Hotel dopo l'uscita di Amarcord alle indagini demoscopiche risultava nel mondo il secondo albergo più famoso dopo il Plaza di New York cioè tu fermavi questo è una cosa che si fatica curiosamente secondo me si fatica a capire cioè c'è tutto un mondo legato all'espressione artistica di vario genere che funziona per dire con una parola brutta ma funziona in maniera straordinariamente efficace per promuovere i territori da cui proviene e questo è una cosa che da una parte stupisce che non sia talmente ovvia da essere quasi sfruttata all'esasperazione invece viene in molti casi sottovalutata poi quando finalmente si comincia e allora lì si vede del movimento pensiamo a Pesaro con Rossini pensiamo alla Celeberi in Maserisburgo con Mozart però voglio dire sono casi sporadici invece si comincia a capire che c'è modo di accendere dei riflettori per usare un gergo cinematografico importanti sulle località da cui provengono questi personaggi che esattamente al contrario di quello che si pensa come nel caso di Fellini non hanno abbandonato il loro luogo di residenza ma l'hanno addirittura valorizzato Fellini probabilmente senza andare a Roma avrebbe avuto difficoltà poi a fare tutto quello che ha fatto oggi potrebbe essere già più semplice ma 50 anni fa 60 anni fa 70 anni fa partire lavorare dalla provincia era improponibile in certi settori c'era questo fenomeno degli intellettuali della diaspora il fatto che tu devi lasciare anch'io devi lasciare la provincia se in qualche modo vuoi cercare di raggiungere la tua missione il tuo ideale la tua vocazione insomma è anche un buon proposito perché voltare le spalle della provincia non significa rifiutarla significa cercare una maggiore crescita insomma che ti offre la città la metropoli l'incontro con le persone con le persone giuste nel giornalismo come un attore deve stare per forza a Roma dove fa l'attore quindi ci sono dei luoghi deputati però ci sono anche delle azioni deputati adesso non vorrei sminuire l'altra produttività dell'Italia che è comunque molto alta ma noi stiamo ancora vivendo sul rinascimento in Italia cioè se non avessimo avuto i pittori di Roma di Venezia di Firenze non avremmo quella ricchezza turistica che abbiamo viviamo su quella ricchezza lì e se non continuiamo a tesaurizzarla con degli ecco con personaggi di grandissimo livello come Federico che sicuramente rinnova i fasti del rinascimento dei grandi artisti Ariosto Dante Dante scrive la divina commedia e la chiama commedia esatto cioè per intrattenerci Federico quando gira otto e mezzo mette davanti alla macchia da presa un cartellino per se stesso in cui dice ricordati che è una commedia che stava scrivendo fosse il libro il più grande testo cinematografico del novecento e forse del mondo insomma Federico è un personaggio mondiale Federico è un personaggio che resterà nei libri di storia non nella storia del cinema perché ha cambiato l'umanità ha cambiato la visione del cinema il linguaggio ha dato una prospettiva all'arte alla settima arte che non avrebbe avuto in nessun modo senza di lui avevamo anticipato appunto a parte che lo state già apprezzando dalle sue parole avevamo anticipato appunto che Gianfranco Angelucci è di più di quello che avevamo scritto avevamo scritto scrittore e regista e anche appunto sceneggiatore l'abbiamo sentito e diciamo che è anche docente e come regista è regista di un film con un'attrice per quelli della mia generazione indimenticabile Cleo Bosmit c'è poco da fare insomma e questa già di per sé ne fa un personaggio degno di memoria e di nota probabilmente molti di quelli che sono all'ascolto non ricorderanno Cleo Bosmit ma andate a cercarla io l'ho cercata tra l'altro vive tuttora a Londra con la figlia e ovviamente non più nel mondo dello spettacolo imparentata con la famiglia reale e il film era Miele di Donna che è una televisione che si chiama Cielo continua a riproporre con molta frequenza insomma è stato il mio primo lungometraggio poi considerate che Cleo Bosmit aveva esordito con Lattuada con Le Cicale esatto e poi con Le Cicale e poi il secondo film era questo insomma per cui era bellissima capricciosa intelligente con moltissimo talento però era probabilmente un po' viziata era di famiglia molto ricca insomma non aveva bisogno del cinema sì infatti poi dopo un po' la meteora ha preso un'altra strada e siamo quasi in chiusura ma io ti avevo chiesto di portare due libri perché c'è questa intuizione sul fatto che l'anno felliniano pur con il più uno introdotto da Rimini potrebbe anche prolungarsi perché entriamo invece nell'anno di Giulietta Masina sì si prolunga organicamente fisiologicamente con con la moglie attrice io avevo già dedicato a Giulietta un libro l'unico l'unica l'unica biografia l'unica monografia che esiste di Giulietta che quest'anno ho ripreso in mano eventualmente ho revisionato uscirà in un'altra veste il 22 di febbraio perché il 22 di febbraio ricorre la nascita di Giulietta e sarà l'occasione per recuperare forse un po' degli appuntamenti che si sono persi a causa del covid nel 2020 per Federico non soltanto per questa coppia artistica che ha fatto due film ha realizzato due film da Oscar ma perché Giulietta nei personaggi che ha interpretato Gelsomina della strada e Cabiria delle note di Cabiria credo che sia veramente un simbolo delle donne insomma andrebbe proprio recuperata nei personaggi ma anche in lei era veramente una donna di una forza incredibile Giulietta poi per stare insieme a Federico mi puoi immaginare immaginiamo e dicevi che hai la possibilità e hai avuto già la possibilità di sollecitare a livello ministeriale questa attenzione sì sì ho cercato sì ho cercato anche parlando col festival di Venezia con il presidente della Biennale di Venezia sto cercando in tutte le maniere di fare in modo che l'anno di Giulietta venga dedicato alle donne e alle donne che subisco violenza usurpazione ogni giorno davvero ogni giorno c'è una mattanza di donne e che Giulietta con i suoi personaggi ripeto personaggi struggenti per dolore per il dolore che portano dietro però struggenti anche per la forza di rialzarsi sempre e ricominciare come credo siano tutte le donne che poi sono portatrici di vita senza le donne non staremmo neanche tu ed io a dialogare qui ecco quindi mi sembra l'occasione più bella per festeggiare Giulietta in tutto l'anno ma per festeggiare anche le donne che lei ha rappresentato in maniera così nobile e alta bene allora il tempo è volato come sempre abbiamo parlato di Federico Fellini abbiamo parlato di Giulietta Masina l'abbiamo fatto con chi? con Federico con Fellini Federico non è mio fratello con Fellini ha avuto modo di condividere un bel pezzo di vita insomma dopo che era stato su quella strada sicuramente torneremo perché sono argomenti importanti interessanti torneremo a scoprire se questa idea di dedicare a Giulietta Masina il 2021 e magari anche andando avanti va in porto anche in maniera istituzionale ufficiale ringraziamo Gianfranco magari facciamo una maratona una maratona su Giulietta Masina e i film di Federico perché no? una bella giornata dedicata a questi due grandi personaggi in fondo siamo una televisione per cui possiamo possiamo anche organizzarci in questo senso allora io di solito lancio una specie di sondaggio e poi c'è anche una dedica con la quale noi chiudiamo questa seconda frazione del tempo allora la dedica buon inizio di fine settimana buon inizio fine sono Michele e oggi con mia moglie Erika ci siamo divertiti a improvvisarci chef il menù di oggi tagliolini allo scoglio pesce spada alla pizzaiola e come dessert due ricche porzioni di tiramisù e quasi quasi ci faremo invitare a pranzo da questa coppia di nostri telespettatori come sempre invece noi ringraziamo tutti quelli che ci seguono dai social alcuni Stefano Camillo Alessia Simone li salutiamo direttamente altri segnano e magari ce li perdiamo comunque salutiamo tutti quelli che ci seguono e alla fine andiamo poco prima della dedica musicale con il sondaggio abbiamo proposto di farci sapere se preferite la musica digitale o analogica questa volta vince di poco le altre volte era più netto la percentuale questa volta di poco 57 a 43 che comunque elettoralmente sarebbe stravincente vice il digitale l'analogico ancora fatica quelli come noi che vanno dietro ai dischi ancora faticano un po' però vuoi mettere il bello di mettere sul piatto un bel disco allora la dedica la dedica di oggi l'abbiamo agganciata a una canzone abbiamo da un po' di tempo provato a trovare dei nuovi artisti in qualche modo emergenti la canzone è firmata da un trio che si presenta semplicemente col suo cognome uno tra l'altro lo conosco bene sono Mascanzoni con la N Mussoni e Pagnini il titolo della canzone è Ti vedrò crescere un pezzo del 2020 ci vediamo subito dopo con l'amministratore delegato di Marche Multiservizi Mauro Tiviroli perché la luce è così fioca e le imposte sono chiuse perché mi parli di un Dio che non ti segue più chi te le ha dette tutte queste cose chi si è permesso di buttarti giù perché sorridi cazzo mi fai male domani a scuola io ti aspetto lì tu che ogni notte mi hai collato e con la musica svegliato quel piano forte che conoscevo non accarezzi più chi te le ha fatte quelle cicatrici ma se ne andranno resteranno lì se ti nascondi cosa posso fare e se mi abbracci non ti sento e adesso guardami un tramonto a un passo prima della fine prendi a calci le parole e vai contro tutte le sentenze tu ne hai detto fatti forti hai deciso di restare qui ora la luce non è fiocca e la rivolta è cominciata e se ti pettini i capelli sono belli proprio come i tuoi se ti inginocchi poi ti sai rialzare come se niente ti sfiorasse più c'è un'altra lettera c'è un'altra lettera da custodire oltre la vita istinto primordiale ti abbiamo chiamato scricciola piccola non fragile e tu mi hai chiamato forza ma non era vero ed io lo sapevo perché senza te ogni respiro era un pugno in faccia eppure dentro il fiume non ci siamo mai caduti forse chiamalo destino o fede o amore o come ti pare e ci sarà tempo per il buio e per la sponda maledetta che ci attende con sembianze d'amore ma l'amore lo facciamo qui io e te quando mi osservi sfocata con orgoglio puro ed io ti prendo in braccio fino alla vetta che profuma di presente e adesso guardami un tramonto un passo prima della fine prendi a calci le parole e vai contro tutte le sentenze tu mi hai detto fatti forte hai deciso di restare qui ti vedrò crescere ti vedrò crescere ed ora ti ringrazio e resto muto mentre insegni il coraggio con il sorriso di un eroe e ci fermiamo qui ad ascoltare musica senza mai smettere di credere che una nota possa salvare l'esistenza di una madre malata di vita eccoci di nuovo allora casa Rossini terzo ospite della mattinata l'amministratore delegato di Marche Multiservizi devo essere molto attento a definire il titolo Mauro Tiviroli buongiorno 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 a voi e ai vostri telespettatori allora Mauro Tiviroli è amministratore di Marche Multiservizi ormai da diverso tempo è a Pesaro da diverso tempo quando è arrivato a Pesaro e soprattutto perché è arrivato a Pesaro diciamo che sono arrivato a Pesaro a fine del 2002 a seguito di una di un'idea lungimirante degli amministratori dei comuni che allora erano proprietari di Aspes Multiservizi lungimirante perché già negli anni 2001 hanno indetto una gara a doppio oggetto quindi per la ricerca di un partner industriale noi io lavoravo come direttore di settore nell'azienda società per azioni di Seabo di Bologna partecipammo alla gara assieme ad altri soggetti tipo Enel e altre aziende importanti italiane e eravamo in sei o sette e abbiamo vinto la gara è stata assegnata a Seabo che poi è diventata era a fine del 2002 e in quel momento il mio amministratore delegato mi chiese la disponibilità di venire a fare l'amministratore delegato della società che avevamo acquisito in quota minoritaria però per effetto della gara e del patto parasociale dello statuto l'amministratore delegato competeva al partner industriale quindi mi ha chiesto se ero disponibile a fare questa esperienza e ho accettato ho messo mezz'oretta a decidere a dir il vero quindi molto veloce poi è chiaro che poteva essere un percorso diverso però sono tuttora qua e quindi sono ormai più di 18 anni si trova bene a Pesaro allora? ma diciamo che Pesaro è una città a dimensione d'uomo è una bella città un bel clima ma tutto il territorio marchigiano è particolarmente gradevole quindi diciamo che mi trovo bene spero di essere riuscito a dare il mio contributo nell'evoluzione dell'azienda che amministro e quindi sono qua nel 2002 all'arrivo ha trovato una situazione di che genere? cioè e poi come si è evoluta poi la tutto lo sviluppo di Marche Multiservizi ma guardi all'inizio degli anni 2000 tutte le municipalizzate hanno avuto un momento di evoluzione c'è stata l'evoluzione del passaggio dalla municipalizzata alla SPA e quindi c'è stato un certo tipo di dinamismo che come dicevo ha coinvolto anche Pesaro tant'è che una volta trasformata la sua azienda in SPA ha fatto una gara di evidenza europea per la ricerca di un partner industriale e in quel momento diciamo che tutti si stavano muovendo e la società di Pesaro aveva tutta una serie di aspetti anche di vocazioni positive che chiaramente poi dovevano essere tradotte in un'ottica più industriale e in un'ottica di percorso evolutivo dal punto di vista dell'organizzazione e della struttura ci sono dei pesaresi attenti dei pesaresi un po' distratti allora innanzitutto ricordiamo che Marche Multiservizi è la prima multi utility della regione per la gestione dei servizi del ciclo idrico integrato acqua della distribuzione di gas metano dei servizi di igiene ambientale nella quasi totalità dei comuni della provincia per molti pesaresi quelli distratti siamo ancora ai tempi dell'ASPE se non addirittura dell'AMANUP per cui si pensa all'immondizia eccetera qua invece il tema è molto diverso perché sempre di rifiuti stiamo parlando ma stiamo parlando di adeguarci a un'agenda ONU stiamo parlando di adeguarci a delle direttive internazionali insomma stiamo parlando di un gioco importante che è vero che nasce per quanto riguarda i rifiuti per esempio appunto nel sacchetto che viene buttato e conferito dal privato però che deve comunque rifarsi a delle direttive molto molto importanti non stiamo più parlando di cose che si risolvono nell'ambito locale ma se mi consente prima di arrivare all'agenda ONU ci possono fare alcune riflessioni dal 2002 ad oggi all'epoca parlavamo di una società che aveva circa 10-11 comuni oggi Marche Multiservizi ne ha una cinquantina quindi ha fatto un percorso anche societario di unificazione col Megas quindi la società interna che gestiva Orbino e tutti gli altri comuni siamo passati da un investimento annuale che se non ricordo male era poco più o poco meno di un milione e mezzo all'anno oggi la nostra azienda investe e quindi ribalta sul territorio infrastrutture che siano poi tecnologiche o comunque di reti di circa 25-30 milioni tutti gli anni quindi se posso dare un dato dal 2008 quando è nata Marche Multiservizi per effetto della fusione tra Aspes e Megas Marche Multiservizi quindi la nuova realtà che ha consentito di avere delle sinergie dell'economia di scala al 31-12-2020 se facciamo la sommatoria di tutti gli investimenti annuali arriviamo a circa 240 milioni di euro investiti cosa che la piccola realtà che avevamo nel 2002 chiaramente non si poteva permettere perché per investire tanto serve non solo i soldi che sono altrettanto importanti e per avere i soldi bisogna avere dei finanziamenti che richiedono bilanci solidi chiari dal punto di vista anche dell'equilibrio economico finanziario e patrimoniale e diciamo che da questo punto di vista abbiamo fatto dei grossi percorsi per esempio il patrimonio netto siamo partiti nel 2002 quando sono arrivato io era 10 milioni oggi abbiamo patrimonializzato Marche Multiservizi con oltre 120 milioni di euro è chiaro che questo ci consente di poter andare al credito con un buon rating e quindi pagare i finanziamenti che chiediamo per fare gli investimenti a beneficio delle infrastrutture che se vuole poi le do qualche dato necessitano a dei buoni costi negli oneri finanziari ma soprattutto anche averli perché poi la banca oggi come oggi alla luce anche di tutte le basilee tutte le regole che hanno a livello comunitario non danno i soldi al primo che passa e quindi per avere un buon credito serve un bilancio che sia economicamente buono quindi da questo punto di vista abbiamo veramente fatto dei passi avanti ma soprattutto per fare tanti investimenti serve anche capacità professionale serve ovviamente la visione ma serve anche la capacità di organizzare di progettare e poi realizzare stiamo vedendo nel frattempo un filmato che presenta diversi ambiti ambienti e diverse persone dell'organizzazione insomma ma vede Marche Multiservizi oggi occupa se teniamo dentro anche Falconara che è la società che abbiamo nella provincia di Ancona occupiamo circa quasi 600 persone dirette altre 600 dell'indotto e quindi la nostra capacità di investimento e di acquisto produce un'occupazione indotta di altre circa 600 persone quindi diciamo che il livello occupazionale che produce Marche Multiservizi è di circa 1200 1100 1200 persone a livello annuale e solo dal 2008 facevo i conti un po' di tempo fa così per curiosità abbiamo inserito in azienda circa 250 persone nuove quindi sono state 250 assunzioni di giovani persone di cui avevamo bisogno sia operativi che tecnici o amministrativi e quindi lei capisce che con l'aria che tira soprattutto dal punto di vista della disoccupazione nel nostro paese e quindi anche nel nostro territorio perché poi alcuni processi produttivi hanno sofferto e stanno ancora soffrendo è un buon contributo a livello di occupazione sul territorio e tutto questo ci porta al punto Marche Multiservizi ha già oggi superato quelli che erano gli step dettati dalle direttive previsti per il 2025 e addirittura per il 2030 se posso dire una cosa con un po' di orgoglio le direi questo quando sono arrivato ero sono stato tacciato come un antiambientalista qualcuno mi vedeva più o meno attenti come diceva lei all'inizio qualcuno mi vedeva un po' come lo straniero i risultati che le dicevo che credo siano buoni e non è certamente merito dell'amministratore legato ma di tutta l'azienda delle persone di tutte le strutture che fino all'ultimo io credo che dico tutti i giorni ai miei colleghi dirigenti quadri che tutti danno il loro contributo in modo fondamentale per il risultato complessivo si vince in squadra e si perde in squadra non è che vince o perde l'allenatore e dicevo se posso dire una cosa con orgoglio è che i risultati a livello economico a livello di occupazione e anche a livello di investimenti che abbiamo raggiunto li abbiamo raggiunti in un'ottica con un'ottica molto attenta alla sostenibilità sono praticamente 13 anni che facciamo il bilancio di sostenibilità certificato dal miglior certificatore è istituto certificatore mondiale che è il DNV e quindi diciamo che da questo punto di vista abbiamo sempre avuto un occhio attento a quello che è l'aspetto sia ambientale ma anche sociale e l'altro aspetto che dicevo è appunto che nel 2002 se non ricordo male avere la bandiera blu era quasi più o meno diciamo che era un tirare i dadi oggi abbiamo una buona tranquillità per effetto di tutti gli investimenti che abbiamo fatto lungo l'asta del foglio e poi non abbiamo ancora finito perché il depuratore di Borgeria lo stiamo completando sarà completato nei prossimi mesi significa che la città di Pesaro sarà depurata al 98 99% quindi si capisce che è un grosso contributo a quello che è la bandiera la bandiera blu ma non solo la bandiera blu intesa come bollino ma come qualità del fiume e quindi della balneazione stiamo completando e lavorando sul medio foglia a a Montecchio dove stiamo raddoppiando il depuratore e superamento di tutta una serie di piccoli depuratori che sono obsoleti e questo e questo anche dal punto di vista per esempio dei rifiuti siamo partiti a quell'epoca che era circa il 23% la raccolta differenziata nella città di Pesaro oggi sull'intero bacino e noi gestiamo circa 300.000 abitanti 280 300.000 abitanti quindi anche le aree interne abbiamo dei piccoli comuni con dei picchi che arrivano anche all'80% Pesaro siamo al 70% però la media del nostro territorio è oltre il 70% quindi è chiaro che abbiamo già superato di gran lunga quelli che erano gli obiettivi che fissava l'Unione Europea nel 2025 noi li abbiamo già raggiunti sia come riciclaggio degli imballaggi piuttosto che del recupero della raccolta differenziata perché purtroppo viviamo in un paese in cui non pesano ma l'Italia diamo poco poco peso alle parole e per troppi anni in modo errato abbiamo definito la raccolta differenziata l'obiettivo la raccolta differenziata è uno strumento è un segmento dell'attività che deve portarci ad agire poi su quelli che sono uno dei temi anche dell'agenda ONU il bene del pianeta e della sostenibilità perché chiaramente se facciamo la raccolta differenziata ma poi non facciamo il recupero è ovvio che infatti era qui che io volevo arrivare in una mia vita precedente ma in realtà ancora quell'attività è in piedi noi abbiamo collaborato con Marche Multiservizi nella diffusione sul territorio della cultura della raccolta differenziata e noi adesso in questo momento ci stiamo rivolgendo a un pubblico che è a casa che ovviamente non può che essere contento delle parole di Mauro Tiviroli e in certi casi può solo ascoltarle penso all'acqua alla depurazione ma in certi casi è anche attivo perché la raccolta differenziata strumento e non fine è qualcosa che noi facciamo tutti i giorni non c'è il rischio che qualcuno dica beh l'obiettivo raggiunto non c'è più bisogno che mi impegno ma non era questo il messaggio che volevo dare io appunto è chiaro che tutto va perfettibile tutto va migliorato ma nell'ottica di quello che ha detto lei però che appunto è uno strumento ci sta il dire siccome è uno strumento abbiamo raggiunto uno step dello strumento io a volte posso sembrare anche un po' antipatico però sono abituato a dire quello che penso e pensare quello che dico la percentuale del raccolto differenziata è importante è importante nella misura in cui poi riusciamo effettivamente a recuperare o riciclare quel prodotto quella frazione di raccolta differenziata producendo dei prodotti secondari o altre cose ma l'elemento fondamentale è la qualità se io devo esprimere uno spiccio una richiesta ai cittadini mi verrebbe da dire che è meglio mantenere il 70% ma di buona qualità piuttosto che arrivare al 75% ma di scarsa qualità è un po' come a tavola io preferisco bere un mezzo bicchiere di vino però buono piuttosto che una mezza bottiglia che è scarsa anche perché torno sul tema dei rifiuti e quindi abbandoniamo il vino perché è abbastanza presto quindi non vorrei che qualcuno mi prendesse come un ubriacone mi viene da dire che è la parte finale è la parte finale che conta perché altrimenti succede come in molte parti purtroppo d'Italia ma forse anche nel resto del mondo che si fa la raccolta differenziata poi questo materiale fa una brutta fine quindi e oggi abbiamo bisogno abbiamo bisogno di recuperare materie prime e energia da quello che è il rifiuto perché perché mentre parliamo dobbiamo essere tutti quanti consapevoli che l'economia circolare la sostenibilità sono belle parole però dobbiamo cercare di riempirle altrimenti ci riempiamo la bocca con dei bei paroloni l'economia circolare tutti ormai se ne parlano molti scambiano l'economia circolare con la raccolta differenziata e non va bene certo quindi perché ne abbiamo bisogno perché viviamo in un pianeta e qua vengo un po' al tema dell'agenda ONU che giustamente sta a posto al centro al centro delle politiche industriali del mondo non di marche multiservizi del mondo l'attenzione su quello che è il pianeta su quello che è l'evoluzione e il cambiamento climatico su quello che è il tema delle risorse il tema dell'energia allora economia circolare significa cercare di recuperare energia da fonti rinnovabili significa usare in modo intelligente e razionale l'energia quindi noi per esempio in questi anni abbiamo investito moltissimo su quelli che sono tutta una serie di impianti sollevamenti pompe eccetera per ridurre il consumo di energia perché viviamo in un paese che ne abbiamo poco costa e le dico solo un dato poi i cittadini non se ne rendono nemmeno conto perché comunque è anche abbastanza complesso ma tutto quello che noi risparmiamo in energia e malcontatto credo che negli ultimi anni possiamo dire che abbiamo dei costi la nostra attività per esempio nell'idrico sia come approvigionamento distribuzione e soprattutto fognaria e depurativa è molto energivora quindi consumiamo molta energia con dei costi elevati attraverso gli investimenti e anche le professionalità che abbiamo l'energy manager piuttosto che l'attenzione dei tecnici che tutte le volte stanno attenti a cercare di investire e sostituire pezzi che comunque consumano meno energia posso dire che mediamente in un anno risparmiamo circa 2 milioni di euro di costi di energia che non rimangono in tasca all'azienda perché in base alla delibera e alla regolazione di Arera e quindi tutto il sistema regolatorio perché le tariffe le fissa l'autorità competente sono passanti quindi se io spendo 2 milioni in meno i cittadini nel suo complesso spendono 2 milioni in meno poi è chiaro che non c'è una riduzione di tariffe perché dopo c'è gli investimenti tutta una serie di aspetti che comunque vanno a compensare però è un risparmio un contenimento dei costi e anche su questo vorrei dire che l'azienda ha sempre posto una grande attenzione proprio a maggior ragione in questo momento la nostra missione è quella di ottimizzare rendere ottimale quello che è il rapporto tra il costo e la qualità del servizio che facciamo perché chiaramente il nostro dovere deve essere quello di fare bene le cose e farle costare il giusto il meno possibile ovviamente per i cittadini è chiaro che per fare questo abbiamo bisogno di un bilancio solido abbiamo bisogno di investimenti abbiamo bisogno di tutte le cose e soprattutto capacità e professionalità importanti si starebbe ancora a parlare tanto soprattutto scendendo magari nei dettagli quelli pratici che possiamo dare come consigli anche ai telespettatori però quello che risulta chiaro è che per contribuire in maniera attiva a questa filiera virtuosa l'importante è fare attenzione alla qualità tecnica di quello che si fa l'amministratore Tiviroli poco fa diceva meglio un 70% comunque di qualità piuttosto che un 80% magari di scarsa qualità che cosa vuol dire vuol dire che il conferimento va fatto con la testa cioè va fatto ragionando su quello che si conferisce dove lo si conferisce senza essere approssimativi o superficiali siamo proprio in chiusura e volevo solo fare una battuta sul fatto che il covid incide anche su questo i dati gli ultimi dati sono del 2019 non sappiamo esattamente cosa è successo nel 2020 ma nel 2020 c'è stata una specie di inversione di tendenza su un'idea che era quella di stiamo attenti eliminiamo l'usegetta tutta una serie di cose che all'improvviso il covid ha obbligato a diciamo per ora mettere da parte l'usegetta è ritornato a essere uno degli strumenti anti contagio c'è la sensazione o avete dati già che comunque ci sia stato uno stop in quella direzione oppure si è riusciti a tamponare il rischio ma diciamo che i dati non finali non li abbiamo ancora qualcosa si è notato e sicuramente c'è un un impatto di qualche punto sembra esserci sul tema della raccolta differenziata perché è ovvio che questa questa pandemia ha cambiato lo stile di vita delle persone ha imposto tutta una serie di aspetti di vita che chiaramente prima non c'erano lo vediamo lo vedremo poi faremo le nostre considerazioni se posso due battute finali la prima che ovvio che ho detto 70% di buona qualità poi se riusciamo a fare 75% di buona qualità ovviamente siamo tutti felici contenti e tutti diamo un contributo alla sostenibilità ambientale l'altro aspetto che ci tengo molto è l'aspetto del cambiamento climatico e anche il tema per esempio dell'approvvigionamento idrico è un tema che non va sottovalutato perché sarà un elemento che potrebbe impattare fortemente anche su tutto l'intero paese italiano ricordiamoci che il 2017 che è stato un anno particolarmente siccitoso noi ce la siamo cavati bene però anche con un po' di fortuna bisogna dire però l'Italia ha sofferto moltissimo quindi da questo punto di vista il cambiamento climatico e le sue conseguenze vanno ovviamente attenzionate e monitorate Marche Multiservizi in questo contesto vuole essere e credo che possa essere un supporto importante alle amministrazioni comunali alla chi governa il territorio regione provincia le autorità i comuni tutti in questo percorso chiamiamolo o di transizione o di evoluzione da un'economia che comunque è superata a un'economia circolare e come dicevo prima ne abbiamo bisogno perché noi quando siamo a luglio abbiamo già consumato l'energia e le materie prime che produciamo fino al 31-12 dell'anno in questione quindi abbiamo un gap a livello mondiale che non possiamo più sostenere quindi dobbiamo veramente chiedere a tutti di fare quei piccoli gesti quelle piccole cose quella consapevolezza perché molto dipende dalla consapevolezza per contribuire tutti ad avere un futuro per i nostri figli e le nuove generazioni perché anche a livello nazionale tutti parlano di recovery fund ma o recovery plan a me piace più invece la definizione europea che dobbiamo lavorare pensare e programmare per la nuova generazione bene allora ringraziamo per questa conclusione molto importante e che riconduce poi i discorsi sul comportamento quotidiano che tutti noi possiamo avere Mauro Tiviroli amministratore delegato di Marche Multiservizi oltre lui prima di lui c'è stato con noi Gianfranco Angelucci scrittore e regista e prima ancora in collegamento dalla sede regionale della regione Marche di Ancona Mirko Carloni assessore e vicepresidente regione Marche noi abbiamo concluso l'appuntamento è per lunedì prossimo con la diretta ma per tutte le repliche di questa puntata e delle altre oggi pomeriggio alle 16 alle 22 questa sera domani pomeriggio alle 15.30 e poi domenica la maratona pomeridiana con tutte le puntate della settimana grazie a tutti e restate sempre con Rossini TV e grazie all'amministratore Tivirioli buongiorno grazie a voi grazie a tutti